E' stato approvato il progetto per asfaltare una parte importante di via Cona a Teramo. Sì, ieri in giugno abbiamo portato questo provvedimento importante perché viene alla giusta direzione di ridare sicurezza a quel tratto statale veramente ammalorato, presenta buche e quant'altro, una viabilità principale, quindi ad alta densità di traffico e quindi un fatto importante, un provvedimento che richiede un certo importe, però c'è stata la volontà di tutta la giugna e di tutta la maggioranza di andare in questa direzione. Quanto costerà? 215 mila euro circa, quindi comprensivo di via e quant'altro, è un tassello importante per la riqualificazione del quartiere della Cona che segue poi agli altri provvedimenti che stanno procedendo al ritmo serrato, quello del contratto di quartiere che si è riattivato e quello del spostamento della centrale Enel. Quindi un evento importante, un fatto importante. Quando partiranno i lavori? Adesso cerchiamo di attivare procedure più snelle proprio per far sì che nel giro di 10-15 giorni possano partire i lavori, ci sono stati qualche piccolo ritardo, vi ripeto, è tutto complesso. Io ringrazio i dipendenti comunali che nonostante il numero esigua, veramente stanno supportando in maniera importante e con impegno grande il mio assessorato perché le difficoltà sono tante ma loro ce le mettono tutte.